Pace bene, oggi 13 settembre ricordiamo San Giovanni Crisostomo. Ascoltiamo. Giovanni, soprannominato Crisostomo o Boccadoro per la sua meravigliosa eloquenza, nacque in Antiochia. Orfano fin da piccolo del padre, fu educato con cristiana pietà assieme ai suoi fratelli dalla madre rimasta vedova. Studiò retorica e filosofia sotto i migliori maestri del suo tempo, facendo straordinari progressi. Il vescovo di Antiochia, Melezio, conoscendo le sue qualità lo istituì lettore. Flaviano, successore di Melezio, lo innalzò al sacerdozio, con l'incarico di predicare la parola di Dio. Fu eletto successore del vescovo di Costantinopoli con grande acclamazione di popolo il 26 febbraio dell'anno 398. Lo zelo, per riformare i costumi, gli attirò molti nemici. Avendo pubblicamente ripreso dal pulpito alcune colpe dell'imperatrice, questa se ne volle vendicare. Lo fece quindi arrestare e decise di esiliarlo in Bitinia. La notte successiva al suo allontanamento vi fu in Costantinopoli un terribile terremoto, che tutti attribuirono alla colera divina per l'esilio di Giovanni. L'imperatrice medesima si spaventò e scongiurò l'imperatore a richiamare il santo vescovo. Giovanni quindi tornò in mezzo al suo popolo ma per poco tempo, perché i suoi nemici non desistettero e tanto fecero che l'imperatore fu costretto a esiliarlo nuovamente. Giovanni, per l'avanzata età e per gli strapazzi del viaggio, a stento poter arrivare alla città destinata. Il giorno dopo il signore lo chiamò a sé. Era il 14 settembre del 407. Le sue opere sono varie e pregevoli, tanto da meritargli il titolo di dottore della chiesa. Dei numerosi scritti vanno ricordati in particolare i tre libri contro gli avversari della vita monastica, i sei del dialogo sul sacerdozio, varie opere ascetiche, i discorsi e infine la copiosa corrispondenza. Vi propongo una frase di questo grandissimo oratore. La violenza non si arrende alla violenza ma alla mansuetudine. Ed è un grandissimo insegnamento questo. Noi che ogni volta che abbiamo a che fare con qualche persona un po' violenta, non parlo di violenza anche fisica, ma parlo di quel modo di vivere che è aggressivo con gli altri, che cerca di mettere i piedi in testa, cerca di imporsi con un po' di energia eccessiva che limita l'altro, che lo soffoca, che lo fa stare agli angoli, che non lo fa esprimere. Ecco, quando noi abbiamo a che fare con queste sorelle o con questi fratelli è bene capire subito una cosa, che se ci mettiamo a far guerra alla fine ci rimettiamo anche noi. Perché? Guardiamo che cosa ha fatto Gesù in tutte queste situazioni. Mai ha preso in mano le armi, ma è sempre stato nella posizione di chi riesce a guardare l'altro con occhi di misericordia, che forse è anche un po' un sinonimo di mansuetudine in questo caso. Quindi pensiamo alle persone che in questo momento ci fanno violenza e quando ecco il caso di prendere le distanze, mi raccomando non stiamo lì a subire inutilmente, però non facciamo guerra. Ecco, questo è l'importante. L'importante è capire che c'è un momento in cui l'altra persona capirà che non è in pericolo con noi, che non gli stiamo rovinando niente, non gli stiamo rubando niente. Allora la misericordia passerà in questo momento in cui noi riusciremo a far capire all'altro che può stare tranquillo, che non deve essere aggressivo, che è tra amici. Sarebbe bellissimo. Allora io vi ripeto questa frase, la violenza non si arrende alla violenza, ma alla mansuetudine. San Giovanni Crisostomo prega per noi.